Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Le fasi più importanti del martinismo Il martinismo è una delle forme occidentali con cui si riveste l'iniziazione una e sotto tale aspetto va attentamente esaminato e studiato Ma sul martinismo, inteso nella sua più ampia accezione, esistono pareri, punti di vista, terminologie che lo rendono estremamente confuso nella comprensione del suo messaggio, delle sue tecniche e delle possibilità che esso offre agli uomini di desiderio e di volontà Il presente schema, presentato al congresso martinista italiano del 1972 vuole apportare chiarezza nel problema, stabilendo i momenti più importanti del martinismo In pratica, quasi tutti definiscono il martinismo come una dottrina filosofica un movimento di idee ed un ordine costituito per propagandarle che si riconnettono a Louis-Claude Saint-Martin da cui avrebbero avuto origine Egualmente si definisce con il termine di martinismo quella corrente di idee, quella visione del mondo e quell'insieme di pratiche rituali atte a realizzarne presupposti teorici stabilite da Martinez de Pasquali, il maestro di Louis-Claude Saint-Martin Con il termine di Willermozismo si indica l'adattamento massonico di queste che ne fece Giovane Battista Willermoz, in francese Jean-Baptiste Vigermont Ciò chiarito, diciamo subito che accettiamo tutte queste definizioni Ma solo per indicare alcuni momenti del martinismo che vediamo come una corrente unica, iniziatica su cui si innestano di volta in volta tecniche e particolari teorie e particolari adattamenti dei diversi maestri del martinismo stesso e ciò in armonia e conseguenzialmente con la teoria dei superiori incogniti uomini liberi, liberati, in possesso di ogni potestà iniziatica teorizzante, tecnica, rituale, ecc. È evidente che da quanto detto emerge che per noi il martinismo è unico Unico ne è il filone anche se le forme, le tecniche, gli adattamenti divergono nel corso dell'età ed in rapporto al mondo profano su cui opera ciascun iniziatore Sottolineo questa visione e questo punto di vista perché esso è in realtà la chiave della comprensione globale del martinismo delle apparenti differenze, degli indirizzi diversi ma mai contrastanti nella loro essenza Se manca questa comprensione globale questa visione totale che spazia e si incrocia necessariamente con altre forme della iniziazione integrandosi in esse a formare un tutto unico Se manca, ripeto, questa comprensione globale allora qualsiasi confusione è legittima Il martinismo è strettamente legato all'insegnamento di Martinez de Pesqueli che a sua volta operò una sintesi delle conoscenze iniziatiche nell'area occidentale includenti la cabalà, l'agnosi, l'alchimia, eccetera e a cui dette una specie di veste cristiana per poter avere un linguaggio comprensibile nell'ambiente in cui svolgeva il suo lavoro di iniziatore e di istruttore Non riuscire a distinguere la unicità della fonte attraverso le diverse manifestazioni esterne di essa e attraverso le diverse forme di tecniche consigliate strettamente legate alle diverse strutture psicofisiche significa non aver acquisito quella comprensione iniziatica indispensabile per chi ha raggiunto, non soltanto a parole un certo livello di realizzazione reale Sarà sufficiente per questo la seguente lettera scritta da Lucro de Saint-Martin al suo amico e corrispondente Kirschberger e si noti bene che Saint-Martin aveva già abbandonato le tecniche insegnategli dal suo maestro Martinez de Pesqueli La nostra prima scuola, quella di Martinez aveva delle cose preziose Io sono anche portato a credere che Pesqueli, di cui mi parlate e di cui vi debbo dire che era il nostro maestro aveva la chiave attiva di tutte quelle cose che il nostro caro Bohème espone nelle sue teorie ma che non ci stimava ancora in grado di sostenere tutte queste alte verità Possedeva ancora delle conoscenze che il nostro Bohème non conosceva o non ha voluto far vedere di possedere quali il pentimento dell'essere perverso su cui il primo uomo era stato incaricato di sorvegliare Questa idea mi sembra degna di essere inclusa nel piano universale delle cose benché io non abbia avuto alcuna dimostrazione positiva eccezion fatta della sua comprensione intelligente Quanto alla Sofia e al re del mondo non ci ha fatto alcuna rivelazione lasciandoci con le nozioni ordinarie su Maria e sul demonio Tuttavia non potrei darvi assicurazione che egli non ne avesse conoscenza Anzi, sono ben persuaso che prima o poi vi saremmo giunti se lo avessimo conservato per un tempo più lungo mentre la morte ce lo ha rapito mentre cominciavamo a marciare di conserva E così il silenzio del vostro amico di Von su questo punto non prova niente dato che questo amico non ha seguito la nostra scuola da quanto sopra emerge che si può far benissimo un eccellente matrimonio tra la nostra prima scuola e quella dell'amico Bohem è a questo che io lavoro e vi confesso che trovo i due sposi così ben armoniosi che io non conosco nulla di più completo Lettera di Saint Martin a Kirchberger dell'11 luglio 1776 Saint Martin, che secondo alcuni ha creato una cosa differente confessa con pieno candore che malgrado tutto egli resta fedele all'essenza della iniziazione trasmessagli da Martinez ed ecco i momenti del martinismo Primo momento Martinismo primitivo o martinezismo ha come ispiratore e come espressione l'ordine dei cavalieri massoni eletti Coen dell'universo includenti la classe segreta dei Ro-Co-A Rosa Croce in cui, è bene precisare erano ammesse anche delle donne Questa precisazione comporta la necessaria deduzione che per raggiungere il massimo grado dell'ordine non era necessaria l'appartenenza alla massoneria in quanto le donne allora non vi erano affatto ammesse Sul problema delle donne nel martinismo e nel martinezismo rimandiamo agli atti del congresso martinista di San Leo del 1969 L'iter iniziatico proposto da Martinez consisteva in una pratica progressiva di natura magico-teurgica Secondo momento Martinismo antico ebbe due ispiratori che crearono due scuole con tecniche completamente differenti Primo Giovan Battista Willermoz discepolo diretto di Martinez creò l'ordine dei cavalieri beneficenti della città santa di Gerusalemme modificando l'ordine massonico della stretta osservanza templare La tecnica seguita era prevalentemente ritualistica ed operativo massonica Da segnalare che secondo il costume dell'epoca si ebbero delle degenerazioni in pratiche spiritualistiche soprattutto nella zona di Lione L'originario insegnamento teorico di Martinez venne conservato e celato nei gradi segreti dei professi e dei grandi professi i quali ultimi prendevano anche il nome di silenziosi incogniti Secondo Louis-Claude Saint-Martin discepolo diretto come Vigermont di Martinez Abbandonò anch'esso Abbandonò anch'esso le tecniche operative Coen collaborando dapprima con i cavalieri beneficenti della città santa di Gerusalemme per staccarsi successivamente da ogni ritualità di tipo massonico e per praticare la via cosiddetta cardiaca ad indirizzo mistico-filosofico Mentre sia i Coen sia i cavalieri beneficenti della città santa operavano nell'ambito della massoneria superiore Louis-Claude Saint-Martin si indirizzò verso il mondo profano dove praticamente lavorò fino al termine della sua vita Creò dei gruppi che Amadou noto studioso e storico del martinismo chiamò degli amici intimi in cui sembra si perpetuasse la trasmissione del grado Coen di sovrano giudice Necessariamente sottolineiamo che le opere di Saint-Martin erano adottate come testi validissimi dai cavalieri beneficenti della città santa e che sovente soprattutto nell'Europa orientale e nel nord le due scuole si confusero assieme dando vita alla cosiddetta massoneria di Saint-Martin terzo momento del martinismo martinismo moderno Papius fu il riorganizzatore principale se non l'unico di tale forma di martinismo che si diffuse notevolmente nel periodo antecedente la prima guerra mondiale e che talvolta sunse anche aspetti competitivi con la massoneria il suo indirizzo non fu certamente unico anche se in esso possono notarsi delle tinte spiccatamente gnostico-cristiane o massoniche a seconda dei raggruppamenti quarto ed ultimo momento martinismo contemporaneo ha come primo ispiratore e riorganizzatore Robert Rambelan in esso permangono indirizzi differenti ereditati dal martinismo moderno che come si verifica particolarmente in Francia giunge a degenerazioni mistico-cristiane è chiaro che per ora è sufficiente la esposizione dello schema e non il suo svolgimento o i relativi commenti quello che ci interessa aggiungere è che esso trova una sua proiezione nel martinismo italiano qui in Italia possiamo distinguere o suddividere le diverse fasi in antica moderna e contemporanea mancando effettivamente e praticamente la fase primitiva infatti solo due o tre coen risultano essere esistiti e questi ben presto confluirono nei cavalieri beneficenti della città santa di Gerusalemme il martinismo antico fu diffuso particolarmente in Piemonte nella Lombardia e nell'Italia del sud quello moderno ebbe delle caratteristiche particolari perché subì necessariamente l'influenza della scuola ermetica italiana basti ricordare che il maestro Giuliano Kremers collaborava alla stesura della rivista martinista o Thanatos stampata per due anni dal Banti ricorderemo solo di sfuggita agli amici che si ebbe una scissione in due rami uno proclamò la sua universalità rimanendo così avulso dal martinismo mondiale l'altro restò fedele alla linea del Brico con Vincenzo Soro che non poté portare a termine l'iniziato processo di chiarificazione per la sua immatura scomparsa a causa di una caduta da cavallo nel martinismo moderno si ebbero anche nell'immediato dopoguerra delle caratteristiche degenerative mentre una nuova onda martinista proveniente direttamente dalla scuola di Robert creava dei presupposti per una riunificazione risultata successivamente impossibile proprio a causa della diversità di formazione e di tecniche iniziatiche il primo gruppo infatti accentuava un aspetto operativo individuale e collettivo mentre l'altro cercava di evitare qualsiasi operatività che non fosse interiore il martinismo contemporaneo vede l'esistenza in Italia di due gruppi principali quello proveniente dalla discendenza di Robert Zamblain e quello che continua il martinismo papiusiano pre-guerre mondiale il primo è in possesso di una tecnica individuale operativa e di una tecnica collettiva operativa su cui si tornerà in proseguo di tempo su base ermetico cabalistica nel secondo gruppo non sono evidenti indirizzi precisi se non una coloritura tradizionalista genone ed evola che non è omogeneamente accettata da tutti i membri e ci sembra soprattutto carente di una qualsiasi tecnica da utilizzare per lo sviluppo verticale dell'essere ambedue i gruppi possiedono tuttavia una regolarità orizzontale iniziatica pur variando anche i modi e le tecniche della trasmissione per completezza affermiamo che esistono anche i conservatori delle tradizioni willermoziste che tuttavia non manifestano una marcata attività per ragioni che non è possibile esporre esulando dal fine del presente studio per raggiung